Allora 9 ottobre del 2020, non so se vi dice qualcosa, a me sì, come ben sapete io sono di Roma, ma ho anche origine veneta, infatti ho mia mamma e mia nonna che sono di Longarone, un paesino in provincia di Belluno, dove accadde il disastro del Vajont. L'altro mia nonna, una tra le sopravvissute al disastro, che provocò quasi 2000 morti, in meno di 3 secondi. Ma prima di andare a parlare del disastro, andiamo a parlare della diga, che fu progettata dall'ingegnere Carlo Semenza e costruita tra il 1957 e il 1960, a cavallo tra il comune di Erto e Casso, in Friuli Venezia Giulia, e di Longarone, in Veneto. L'argine artificiale, situata tra il monte Tocchi e il monte Salta, aveva lo scopo di bloccare le acque del torrente Vajont, un affluente del Piave, perché era un bacino idroelettrico. Il progetto fu fortemente voluto dalla Sade, che è un'azienda elettrica privata di proprietà del conto Giuseppe Volpi, di Misurata, già presidente della Confederazione degli Industriali e ministro delle finanze sotto il fascismo. Il progetto venne approvato nel 1943, in piena guerra, ma i lavori iniziarono durante il periodo del miracolo economico. Le città del nord, infatti, in piena espansione, necessitavano di quantitativi di energia nettamente superiori rispetto a quelli di cui disponevano. I primi distensi, però, nacquero già agli albori del progetto. Infatti, i cittadini di Artecasso avrebbero preso alcuni terreni che la nuova costruzione avrebbe inevitabilmente richiesto. A queste preoccupazioni si aggiunse una frana, a pochi chilometri di distanza, che causò la morte dell'operatore di sorveglianza della diga di Ponte 6. Ma, nonostante le preoccupazioni, gli ingegneri coinvolti nel progetto non reputarono la zona di edificazione come una zona a rischio frane. Adesso andiamo a parlare del disastro, dove, la sera del 9 ottobre del 1963, alle ore 22.39, un enorme blocco di terra e roccia, 300 milioni di metri cubi di terra e roccia, cadde dal Monte Toc. Immaginatevi una montagna di 2.000 metri alta che cade dentro a un bacino. E infatti, causò una frana che finì dentro al lago artificiale. La massa di terra precipitata nel lago è maggiore rispetto alla superficie del lago stesso e ciò creò due onde in direzioni opposte. La prima andò verso i paesi di Artecasso. La seconda, che è la peggiore, superò il livello della diga per 250 metri e si infranse in tutto il comune di Lungarone. Colpì Lungarone, Pirago, Codissago. Ma anche Rivalta e moltissime altre frazioni. Le vittime furono intorno a 1950, ma solo 1450 corpi vennero recuperati. Quindi 500 ancora sono dispersi chissà dove sotto terra di questi paesi. Ma immediatamente si misero in moto tutti gli enti per aiutare le vittime del disastro. Sul luogo corsero l'esercito italiano, gli alpini e i vigili del fuoco. Allora, la colpa del disastro è attribuita ai progettisti e dirigenti della Sade. Essi infatti sapevano che la zona da edificare era ad alto rischio frana. Inoltre, la sera dell'accaduto, il livello dell'acqua era sopra il livello di sicurezza. E poi, io che conosco un po' di dialetto, so che soprattutto TOC significa marcio. Per precisione, perso marcio. Quindi significa montagna marcia. Perciò questo disastro era evitabile. Ma purtroppo, per via di milioni, chissà quanti milioni di euro, sono morte 2000 persone. Per oggi è tutto. Alla prossima. Alla prossima.